La maggior parte delle persone lavorerà per tutta la propria vita. La pensione rappresenta una promessa fantastica fatta in cambio di una vita di duro lavoro. Vai a scuola, prendi un buon titolo di studio, lavora per quasi 50 anni e alla fine ti potrai godere forse 10 anni di vita in completa libertà. Non è molto promettente come aspettativa di vita, ma per molte persone è un sogno, anche se si realizzerà solamente per pochi. Secondo alcuni studi per poter andare in pensione in tranquillità e senza dover aspettare lo stato italiano ci sarebbero alcuni obiettivi da raggiungere. Per esempio entro i tuoi 30 anni dovrai aver risparmiato un anno di stipendi, quando ne avrai 40 2 e quando ne avrai 50 3. Per quanto tu sia un bravo risparmiatore però questi traguardi sono complicatissimi da raggiungere e io personalmente sono un po' scettico al riguardo, ma se pensi di farcela o ce la stai facendo fammelo sapere con un commento qui sotto e anche se non sarà verificabile mi fiderò di voi. Tornando a noi, molte persone sono molto distanti dalle cifre citate poco fa e solamente il 4,8% delle persone fra i 24 e i 40 anni riescono a risparmiare adeguatamente per la loro futura pensione, mentre il resto di questi probabilmente lavorerà fino alla fine della propria vita. Tutto ciò è molto preoccupante per tre ragioni, la prima è la più ovvia, con l'inflazione e le varie crisi il prezzo di ogni cosa è aumentato mentre i salari sono rimasti gli stessi. Per questi motivi ci sono troppe persone che si ritrovano con dei grandi debiti ancora prima di cominciare a lavorare e anche una laurea in medicina probabilmente non basterà colmare questi debiti o perlomeno non in tempi brevi. Statisticamente un laureato medio che ha appena iniziato a lavorare avrà bisogno di almeno 8 anni di risparmi per potersi permettere di iniziare ad acquistare un appartamento in autonomia, ovviamente senza considerare un eventuale debito contratto per studiare in una scuola prestigiosa o all'estero. Quindi considerando un ragazzo che si laurea attorno ai 23 anni con un mutuo di 30 anni sulle spalle per la propria casa, si ritroverà a 53 anni senza essere riuscito a risparmiare abbastanza per la propria pensione e di conseguenza non potrà mai smettere di lavorare. So che la situazione sembra già abbastanza sgradevole ma ci tengo a precisare che non ho considerato la possibilità di creare una famiglia, di ammalarsi o di acquistare un'auto, tutte spese che ovviamente aggraverebbero la situazione in modo disastroso. Comunque questa era la ragione più ovvia e direi quindi di passare alle prossime due. La seconda ragione è che a molti non importa minimamente della propria pensione, vedono questo argomento come un problema che risolveranno in futuro o peggio ancora, un problema di cui dovrà occuparsi lo stato. Beh, dopo tutto come esseri umani siamo fantastici nell'evitare problemi che non vogliamo affrontare e la pensione è proprio uno di questi. Secondo molti esperti nell'ambito della finanza bisognerebbe iniziare a risparmiare fin da quando si ottiene il primo lavoro in modo da non trovarsi in difficoltà negli anni futuri e sulla carta funziona alla perfezione. Il problema è che se una persona desiderasse rimanere in pensione per quantomeno 30 anni dopo aver concluso la propria carriera lavorativa, spendendo una media di 25.000 euro all'anno, avrà bisogno di circa 500.000 euro investiti in vari asset che garantirebbero dei ritorni quantomeno del 10% ogni anno. Ancora una volta però i problemi non si fermano qui, infatti il 10% di ritorno sugli investimenti dovrà essere tassato e sottoposto all'inflazione, arrivando ad essere più o meno un 5% di ritorno reale. Per ovviare a tutto ciò, tante persone, anche molto giovani, cercano di utilizzare la regola del 4%. Questa implica il dover spendere solamente il 4% del nostro portfolio ogni anno, in modo che i nostri investimenti ripaghino completamente il nostro stile di vita. In ogni caso, credo che questa regola possa funzionare molto bene per persone che sono già abbastanza ricche o super risparmiatrici, ma se ci riferiamo ad un gruppo di persone che guadagna quasi 40.000 euro ogni anno e ha varie spese da dover affrontare, non credo che sia la scelta migliore. Oltretutto stiamo parlando di una pensione che possa garantire una spesa massima annuale di 25.000 euro e comporta quindi una vita abbastanza tranquilla e senza troppi sfarsi, ed è normale pensare che qualcuno non voglia accontentarsi di questo, soprattutto dopo 40 anni di risparmi. A proposito di questo, risparmiare 40 anni va anche contro la base dell'istinto umano e se consideriamo il fatto che come premi avremo solamente 15 o 20 anni di pensione, è anche abbastanza irrazionale. Molte persone non arrivano nemmeno all'età di 70 anni e di conseguenza sembrerebbe molto meglio utilizzare il proprio denaro quando si è giovani piuttosto che potersi vantare di una bella casa da vecchi, o peggio ancora, terminando la vita senza aver mai potuto sfruttare le nostre risorse finanziarie per fare qualcosa che si ama realmente. Ricordati infatti che la vita potrebbe terminare in qualsiasi momento e non c'è niente che possa garantirtela. Ad oggi i giovani pensano molto al divertimento a spendere il proprio denaro senza troppi pensieri. Questo potrà sembrare un comportamento irresponsabile, ma se si pensa che almeno un buon 70% di questi non saranno mai in grado di poter acquistare una casa, forse bisognerebbe rivalutare la situazione. Bisognerebbe anche considerare che gli investimenti fatti su misura per la nostra pensione futura potrebbero andare molto peggio delle nostre aspettative, facendoci finire a 70 anni in una situazione finanziaria che non avevamo previsto di dover affrontare. Se i soldi servono per vivere al meglio la propria vita riempiendola di esperienze e divertimento, allora potrebbe anche essere più sensato spendere tutto ciò che si ha in questo esatto momento. La cosa che però impedisce di spendere molti soldi per potersi godere la vita è che solo in pochi ne hanno abbastanza per poterlo fare. O meglio, potresti spendere tutto ciò che guadagni per divertirti, ma dovresti comunque avere dei soldi per le emergenze e per la vita quotidiana, almeno che tu non voglia rischiare di diventare un senza tetto. Basandoci su ciò che è stato detto poco fa, quindi, risparmiare dei soldi ogni anno per poter fare delle vacanze potrebbe essere una buona scelta e permetterci di godere della nostra vita, dato che le aspettative future, almeno per il momento, non sembrano le più rose. Ovviamente questo dipende moltissimo da persona a persona e sono scelte che non possono essere giudicate, dipende solamente da ciò che vuoi ottenere dalla tua vita. Se vuoi risparmiare per poter andare in pensione a 60 anni e goderti quegli anni in completa libertà, puoi farlo e dovrai ovviamente pagare un prezzo per ottenerlo. Allo stesso modo, se invece vuoi goderti la vita da giovane senza risparmiare molto, il prezzo che dovrai pagare sarà quello di lavorare anche da anziano. La terza ragione per la quale lavorerai fino alla fine dei tuoi giorni è che anche qualora tu volessi risparmiare ed investire per andare in pensione il prima possibile, il mercato potrebbe comunque impedirtelo. Il mercato negli ultimi 100 anni ha restituito una media annua del 10% di interessi, ma l'investitore medio però ne ha ricevuti solamente il 4,25% e questo è ovviamente dovuto a degli errori di valutazione fatti dalla maggior parte degli investitori durante gli anni. Infatti, per ottenere questa media del 10% ogni anno bisognerebbe essere dei veri e propri esperti nel settore, ma la maggior parte degli investitori purtroppo non lo è. Questi errori, nella maggior parte dei casi, sono dovuti al nostro istinto, in quanto se sappiamo che qualcuno sta guadagnando facendo un certo tipo di investimento, la cosa che sembra più sensata è quella di emularlo, per cercare di avere gli stessi ritorni. Sembra un ragionamento logico, ma purtroppo non funziona così, specialmente nel mondo degli investimenti. Se a questo si aggiunge che la maggior parte dei giovani in futuro non potranno nemmeno permettersi di acquistare una casa, la situazione si aggrava maggiormente, perché proprio in questo caso saranno molto più predisposti al rischio e avranno più probabilità di perdere centinaia e centinaia di euro. Non a caso, negli ultimi periodi stanno spopolando corsi sul trading che promettono la ricchezza in cambio di 4 o 500 euro e che, ci crediate o meno, vengono acquistati giornalmente da moltissime persone che per disperazione finiscono per crederci. Un altro grave problema consiste anche nell'investire troppo. Potrebbe sembrare assurdo, ma è proprio così. Se investi gran parte del tuo stipendio senza però mettere da parte un bel po' di soldi per le emergenze, potresti trovarti nella condizione di dover svendere le azioni acquistate ad un prezzo molto inferiore a quello a cui le hai acquistate, solamente a causa di una mancanza di liquidità. Tra l'altro è ormai risaputo che per cogliere i frutti dei propri investimenti è necessario aspettare molto tempo e ad oggi le persone non vogliono aspettare nemmeno un secondo. Se ci hai fatto caso in questo video non ho parlato di ciò che riguarda il piano pensionistico italiano, per il semplice motivo che credo che nei prossimi 20 o 30 anni non esisterà più, in quanto è un sistema altamente insostenibile. So che questo è un tema molto caldo e dibattuto, soprattutto in Italia, e a questo proposito mi piacerebbe creare un dibattito con voi all'interno dei commenti di questo video per capire le vostre opinioni riguardo l'argomento pensione, quindi se vi interessa lasciate un commento e vi risponderò sicuramente. Detto questo spero che il video possa esservi stato d'aiuto e che voi possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi nella vita, vi invito a mettere un mi piace per aiutarmi con l'algoritmo di Youtube e di lasciare un commento.